Ben ritrovati cari telespettatori, allora ci fa piacere riavere qui con noi come presidente di Venezian Cluster e se non sbaglio anche vicepresidente di un'entità di carattere più politico, giusto? Gian Angelo Bellati. L'associazione Veneto per l'autonomia che era avanti con Simonetta Rubinato, ci eravamo anche presentati alle ultime elezioni regionali. Esatto, ben ritrovato Gian Angelo Bellati. Allora, quando abbiamo l'opportunità di averla con noi in studio, che ci fa molto piacere, perché poi sappiamo che è impegnatissimo in tanti tour, anche e soprattutto per l'Europa, perché segue moltissimo le dinamiche dell'Europa, le opportunità, i progetti, come sempre dice, arriva tanto, ma siamo noi che non siamo in grado di cogliere tutte le opportunità. Per noi questa è l'opportunità appunto per far capire, far comprendere le dinamiche dell'Europa anche a noi comuni mortali, noi e ai nostri telespettatori, perché? Perché ci sono tanti provvedimenti che ci stanno stretti, che ci fanno pensare, ma in fin di conti all'Europa che è fatta da colossi, tipo la Germania, la Francia, eccetera, non interessano le dinamiche invece di paesi un po' particolari come l'Italia, è così secondo lei. L'ultimo sono i provvedimenti energetici, quelli sugli immobili, quella delle macchine a energie elettriche, insomma cose che veramente sono impraticabili, se non in un lunghissimo periodo per il nostro paese. Ma se guardiamo a quello delle auto elettriche, direi che ci siamo trovati appaiati insieme con la Germania, la posizione italiana è stata una posizione saggia, è stata una posizione per dire no, non possiamo brutalmente buttare via le macchine a motore termico e andare direttamente eliminandole, andare sull'elettricità e ci siamo trovati in ottima compagnia con la Germania, perché in fin dei conti se noi guardiamo dove è rimasta la vera industria manifatturiera, quella che poi porta anche grandi utili se si vuole, ma porta la vera produzione, è rimasta su una T rovesciata, nel senso una T come quella di TV7 ma rovesciata, dove la zona quella dove c'è più industria manifatturiera, lo si vede facendo una differenza fra il 2000 per esempio e il 2020, nel 2000 c'era un po' di industria manifatturiera in tutta Europa, in Gran Bretagna, fino alla Spagna, noi eccetera, adesso praticamente l'industria manifatturiera vera è rimasta sul bacino famoso della RUR, la stanghetta della T che va verso giù e trova l'altra stanghetta della T rovesciata nella pianura padana, queste sono le due aree che hanno la vera impresa manifatturiera in Europa, le altre aree sono praticamente finite dal punto di vista dell'impresa manifatturiera, quindi questo che cosa vuol dire? Che siccome l'Europa è un'entità politica ma soprattutto economica, è evidente che noi ci troviamo insieme con la Germania nel momento in cui si dice andiamo a distruggere l'industria dell'auto termica, anche perché una marea di imprese che noi abbiamo nella Italia del nord, lavorano assiduamente con tutto il mondo della Volkswagen, della BMW, di tutte queste imprese, per cui se noi andiamo a mettere in crisi l'industria tedesca, mettiamo in crisi l'industria dell'Italia, soprattutto l'Italia settentrionale che tiene in piedi il paese, per cui non conviene nella Germania e l'Italia, quindi non è paesi del nord o paesi del sud, dipende, sull'agricoltura sì, è più un problema paesi sud versus paesi del nord, perché ci sono esigenze che sono diverse, ma per esempio cito un altro dossier importante che è quello della ricerca e sviluppo, nell'ambito della ricerca e sviluppo noi siamo un paese avanzatissimo, soprattutto nell'Italia del nord, quindi a noi come quando c'era la Gran Bretagna adesso non c'è più, ma con i paesi del nord Europa noi abbiamo gli stessi interessi, mentre invece sul fronte della immigrazione possiamo avere degli interessi più comuni con i paesi dell'Europa dell'est piuttosto che con la Francia, piuttosto che con l'Europa del nord sopra la Germania, ma se noi guardiamo poi alla fine quanta gente immigrata c'è, per esempio all'interno della Francia, ho fatto un recente viaggio nella Francia del sud, ma là è pieno così di immigrati, per cui il problema di immigrazione non riguarda solo noi, riguarda anche loro alla fine. Ma infatti sappiamo però ad esempio che gli immigrati in Francia, l'abbiamo visto, poi anche con fatti anche recenti, peraltro dopo il dono non arrivano mai le notizie complete, ma tutto quanto è così a stracci, però parli con persone, ho avuto l'opportunità di parlare con diverse persone che vivono in Francia, erano manifestazioni molto pesanti nelle periferie, non si scherzava, assolutamente. Proprio di recente, la settimana scorsa, era impressionante vedere quanta polizia, quante diciamo soldati antisommossa erano distribuiti anche nella Francia del sud, dove c'è stato, ma c'è stato meno che in altre zone della Francia, tipo Lione, tipo Parigi, per cui sì c'è una situazione che rischia, non dico di andare fuori controllo, ma insomma giù di lì perché ci sono molti strati di popolazione che non vivono bene. Esatto, non integrati, cioè sono di seconda, terza generazione, ma non sono integrati. Non sono integrati. Quindi non è da prendere in esempio quello che è successo in Francia, perché hanno avuto un'immigrazione fortissima, c'è, c'è questa commistione, ma non c'è l'integrazione, è una bomba e orologeria, e se in Francia riescono a gestire a volte le bombe e orologeria in qualche modo, anche perché i francesi non ci vanno per il sottile, da noi sarebbe impossibile, ingestibile tutto sommato, no? No, no, ma di fatti noi dovremmo approfittare adesso che ancora la presenza dell'immigrazione è molto più ridotta che in Francia o anche in Germania o anche in altri paesi, di fare velocemente delle politiche per andare contro il problema demografico, perché nessuno ne parla veramente chiaramente. Ma il problema numero uno, oltre al debito pubblico italiano, che è una cosa spaventosa, ma il problema numero uno dell'Italia sta diventando, come in tutta Europa, sempre di più il problema demografico. E quando tu parli di un problema demografico e ti rapporti con i paesi che in questo momento sono dall'altra parte, diciamo, nella guerra in Ucraina, scopri che noi rappresentiamo il mondo occidentale più vecchio, con un miliardo di persone, ma dall'altra parte ci sono miliardi di persone, 4-5 miliardi di persone che hanno altri problemi, che hanno altre politiche, che hanno altri raggruppamenti, che hanno altre organizzazioni, tipo l'Unione Europea che li raccoglie assieme e che però hanno molta più gente giovane e molto più numeri di noi. Noi abbiamo un problema demografico pazzesco, infatti il problema è anche delle imprese che non trovano personale e devono andare a cercare i migrati. Questo è un problema tipico che nasce dal fatto demografico. Allora, questo però va anche compreso, perché se io faccio riferimento a un dato demografico vuol dire che già vent'anni fa, perché stiamo cercando di ventenni adesso, non è che cercano neonati, vent'anni fa questo problema si presentava, in realtà non era problema, anzi vent'anni fa non si parlava di problema demografico in nessun modo, se non banalmente si dava qualche cenno e segnale. Non è il fatto che ci sono professioni, modalità, io continuo a dire modalità di lavoro che non sono più appetibili per gli italiani. Ma intanzitutto c'è una mancanza totale, secondo me, dei nostri politici, dei nostri burocrati di fare programmazione a lungo termine, la programmazione a lungo termine la sta facendo le istituzioni europee, guardiamo il programma, il cosiddetto Green Deal, la sfida verde, la programmazione appunto a lungo periodo, 2050, è tipica di più dei paesi del nord, dell'Unione Europea che è più governata sicuramente da paesi del nord, anche come i numeri, rispetto all'Europa del sud. Quindi già 20-30 anni fa si sapeva che cosa sarebbe successo, un come il caso nel piccolo di Venezia. Venezia, ancora 30-35 anni fa, io sono veneziano, si sapeva che si sarebbe spopolata, si sapeva che bisognava fare delle politiche contro. Se ne parlava a livello nostro, veneziano, ma i governanti, gli amministratori locali nulla hanno fatto per invertire questa tendenza, poi non ci può stupire che oggi ormai i residenti sono 35-36 mila rispetto ai 170 mila di quando io era ragazzetto e quindi è una città che è divenuta una Disneyland, quindi o era un programma preciso di arrivare a quello o era un'incapacità di amministrare. Quindi nel campo della demografia siamo in pieno in questa problematica, di tutti i paesi europei noi siamo quelli che sta, l'Italia è quello che sta soffrendo di più e questo che cosa provoca? Buchi da tutte le parti, nelle imprese, in tutti i lavori e quindi dopo alla fine tu dici ho bisogno degli immigrati, perché questo poi dopo alla fine succede. Però il problema è che sei un po' generalista anche il discorso bisogno di immigrati, perché chi viene deve essere preparato, un discorso quello che ha fatto la Germania ancora nell'ondate scorse. Esatto, la Germania ha fatto una bella politica. e ha avuto figure professionali, qualificate, eccetera, poi se li andate anche un po' a scegliere. Per esempio in Germania è stato dato l'incarico alle CAM di commercio di fare la formazione di tutti gli immigrati, in particolare quelli l'ondata, ma non solo quella che è arrivata dalla Siria, che era già gente abbastanza formata. A parte che era una gente che era laureata, anche c'erano molti medici e tutto. Da noi invece arriverebbero tanti che neanche la lingua conoscono, ma non neanche la formazione di base, quindi è difficile che poi li inserisci in cicli produttivi, dove ti è richiesto l'operaio preparato, specializzato, che come minimo deve avere una prescuola tecnica di formazione. Io la vedo così, un discorso sommario, ma non con i piedi per terra. Non c'è un governo di questo problema grande dell'immigrazione. Esatto, a meno che non sia un raccoglitori di patate, di pomodori, o cose che poi anche quello è semplicissimo, perché ti dicono che bisogna un minimo imparare, però si impara, per carità, ma usare macchina controllo numerico, lavorare in certi ambiti, anche l'ambito stesso del turismo, non puoi avere la persona che non sa parlare, che non sa rapportarsi con, certo. Però, tornando al discorso dell'Europa, cos'è che è mancato per il ricevimento di certi provvedimenti? Penso anche al discorso della pesca, per esempio, sono stati presi provvedimenti che non vedono d'accordo i nostri pescatori, li hanno penalizzati, e così in tanti altri ambiti. Perché l'Italia non ha titolo, vista la sua conformazione particolare? Perché la si vuole un po' placare, perché si vuole abbattere il famoso made in Italy, perché poi tutto quello che si fa va a danneggiare le nostre caratteristiche, che non sono poi come... Ma allora, noi siamo il paese che ha più DOP, IGP, cioè denominazione d'origine, specificità alimentari che sono riconosciute difese a livello europeo. Per cui, dal punto di vista dell'Europa, l'Europa prende atto che, se io faccio un nuovo brevetto o un logo, un nome, un marchio a livello italiano, ormai a questo punto lo devo avere a livello europeo. Quindi le istituzioni europee prendono atto di questo e hanno creato negli anni delle strutture per permettere una difesa a livello europeo di quel marchio o di quel brevetto, che poi è una difesa che si propaga a livello mondiale. Quindi la burocrazia, perché è un sistema soprattutto burocratico, quello dell'Europa, è riuscita a risolvere una marea di problemi che noi manco ci rendiamo conto. Se penso quando durante il Covid noi a livello intraeuropeo potevamo muoverci abbastanza liberamente, ma fuori dell'Unione Europea era tutta un'altra storia, oppure quando io voglio andare a risiedere e lavorare in un paese dell'Unione Europea, lo posso fare tranquillamente, non devo avere un permesso particolare, una burocrazia particolare, è tutto automatico. Certo che ovviamente tante cose purtroppo vengono fatte con alcuni problemi, per esempio un eccesso di burocrazia, questo sicuramente è un problema delle istituzioni, vedo adesso che arrivate a uno scritto. Vediamo un messaggio. Buongiorno a voi, in Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti l'immigrazione esiste da anni, da noi entrano i disperati senza niente, senza regole. Come integrarli nella società civile e nel lavoro? Perché non si crea ricchezza nei loro paesi? Ma ragione è che scrive, ci sono due problematiche, quella da una parte dell'integrazione per chi alla fine arriva e dall'altra quella di aiutarli, come si usa dire, a casa loro. Sono due temi fondamentali, effettivamente gli accordi fatti adesso con la Tunisia vanno nella direzione di cui ha la seconda domanda. Per quanto riguarda la prima, cioè per quanto riguarda l'integrazione, noi dovremmo imparare da quello che fanno altri paesi che sono molto più avanti di noi. Ora noi abbiamo l'esempio francese, dove ci sono delle mezze rivoluzioni, l'esempio tedesco, austriaco, di altri paesi del nord Europa, dove invece, non dico c'è pace sociale, ma c'è una integrazione che è arrivata ad un ottimo livello. Allora noi dovremmo imparare semplicemente, come per il sistema delle autonomie, che continuiamo a parlare, e qui mi metto la giacchetta di Veneto delle autonomie della nostra associazione, ma continuiamo a parlare dell'autonomia differenziata che va a provocare divisioni nel paese, che va a provocare degli sbilanciamenti, eccetera. Sono delle affermazioni vergognose, perché se noi guardiamo a un paese vicino a noi, che ha integrato metà la DDR, cioè la Germania orientale. Ci dimentichiamo sempre che dopo, negli anni 90, è stata integrata all'interno della Germania occidentale, ed erano poveri in proporzioni molto di più del nostro meridione, eppure si sono integrati in un grande paese, più grande del nostro, 80 milioni, con un sistema federale che rispetta le autonomie, ma che verifica anche che non ci siano sprechi nella raccolta del denaro, l'utilizzo soprattutto del denaro dei cittadini. Perché non andiamo a imparare dalla Germania e non facciamo un sistema che costa al cittadino molto di meno pro capite? Abbiamo fatto un sacco di studi su questo. Il sistema della pubblica amministrazione italiana costa al cittadino, che quindi deve pagare tasse, molto di più pro capite di quello che costa il sistema federale tedesco. E allora perché non impariamo da quello? E noi diciamo allora, se non vi va bene, caro Paese Italia, l'autonomia differenziata. Vi dà tanto fastidio, è prevista dalla Costituzione, addirittura c'è l'articolo 5, che prevede il rispetto delle autonomie della Costituzione precedente alla riforma del titolo V, e allora benissimo, il Veneto sia una regione a statuto speciale come lo è il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Sicilia e la Sardegna. Visto che si dice anche che l'autonomia divide il paese, abbiamo diviso il paese fino adesso con queste 5 regioni a statuto speciale? No, aiutiamo anche, mettiamo anche il Veneto dentro, non si dividerà il paese come dicono questi soloni, che sia l'autonomia differenziata a farlo, no? Allora facciamo la regione a statuto speciale. Allora, intanto andiamo in pubblicità, voi fate le vostre osservazioni del caso, tra pochi secondi torniamo insieme. Grazie. 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 Grazie.